Benvenuti e benvenute a questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione dell'istanza di nomina in qualità di commissari esterni per l'esame di Stato del secondo ciclo relativo all'anno scolastico 2023-2024. Tutte le informazioni sulla composizione delle commissioni e in particolare sui docenti che hanno obbligo oppure facoltà di presentare la domanda sono contenute nella nota numero 12.423 pubblicata il 26 aprile. Vi ricordo che le domande si potranno presentare dal 27 marzo fino al 12 aprile tramite il solito portale Polis istanze online. Per effettuare il login clicchiamo in basso a sinistra su accedi e scegliamo uno di questi servizi, i più comuni sono lo speed e la carta d'identità elettronica. Una volta effettuato l'accesso rimaniamo nella pagina principale e scorriamo per cercare il riquadro partecipazione commissioni esami di Stato. Clicchiamo su vai alla compilazione. Dopo aver letto tutte le avvertenze spuntiamo la voce ho letto e accetto i termini e le condizioni legali e clicchiamo su avanti. Selezioniamo la provincia in cui siamo in servizio e clicchiamo su avanti. Come troviamo specificato anche in questo riquadro in giallo, se vogliamo presentare la domanda esclusivamente come commissari esterni dovremo compilare il modello ES1 a destra. Clicchiamoci sopra. In questa pagina possiamo visualizzare i nostri dati anagrafici di residenza e di recapito registrati a sistema. Se non fossero aggiornati è necessario modificarli, in particolare il comune di residenza. Infatti se non fossimo soddisfatti sulle preferenze che andremo a indicare nella domanda si verrebbe trattati d'ufficio e si potrebbe selezionare di partire dal comune di servizio oppure da quello di residenza. Per modificare i dati basta cliccare in alto a destra sul nostro nome, su torna a istanze online, nuovamente sul nostro nome, poi su area riservata. Infine nella colonna di sinistra su dati personali e nella nuova pagina che comparirà basterà scorrere in basso e cliccare su modifiche ai dati personali. Per tornare su istanze online clicchiamo su servizi, tutti i servizi, clicchiamo sulla lettera I e poi su istanze online. Ritorniamo alla nostra domanda nella pagina sui nostri dati personali. Scorrendo in fondo troveremo questo riquadro sulla posizione giuridica e ruolo. Nella prima voce bisogna indicare la nostra posizione giuridica, nel mio caso docente di ruolo in istituto statale di secondo grado. Bisogna poi inserire gli anni di servizio in ruolo effettivamente prestati. Questa dicitura effettivamente prestati è presente anche nella guida del Ministero sulla compilazione della domanda. Questo significa che bisogna indicare tutti gli anni di servizio già maturati e quindi anche l'anno in corso se è già stata maturata l'annualità e cioè 180 giorni. Se si è docenti a tempo determinato, in questo riquadro bisogna invece inserire gli anni di servizio non di ruolo. In quest'altro riquadro selezioniamo commissario e clicchiamo su avanti. Se insegniamo in una classe terminale, quindi in una classe quinta oppure in una quarta in un istituto quadrinnale, dovremo selezionare sì in corrispondenza di questa voce. Qua dobbiamo indicare il codice della nostra materia di insegnamento. Attenzione perché non si tratta del codice alfanumerico che rappresenta la nostra classe di concorso, ma di altri codici che si possono trovare nel decreto ministeriale numero 10 del 26 gennaio 2024 oppure più semplicemente attraverso questo motore di ricerca. Basta cliccare su materia di nomina, bisogna selezionare almeno un istituto in cui la nostra materia è esterna, ad esempio io sceglierò il liceo scientifico, indirizzo tradizionale, compariranno le varie materie che sono esterne e seleziono la mia materia, quindi quella della classe di concorso a 27 e come possiamo vedere in automatico compare sia il codice sia la descrizione della materia. Come possiamo osservare, qua è già selezionata di default la nostra classe di concorso. In questa voce, se siamo in possesso di una laurea specialistica magistrale o quadrinale vecchio ordinamento, clicchiamo su sì. Non è scontato perché ricordiamoci che possono presentare domanda anche gli insegnanti tecnico-pratici che accedono alla loro classe di concorso con il diploma. L'ultima voce chiede se prestiamo contemporaneamente servizio in altro istituto secondario di secondo grado paritario. Viene richiesto perché chi presta contemporaneamente servizio in una paritaria non può presentare domanda. Se infatti spuntassimo la voce su sì e cercassimo di andare avanti, dopo darebbe errore. Quindi spuntiamo no e andiamo avanti. In questa pagina dobbiamo compilare i dati relativi al nostro servizio. La prima voce riguarda la scuola in cui siamo attualmente in servizio e se si insegna nelle scuole statali, come possiamo vedere, i campi sono compilati automaticamente. Se si insegna su una COE, cioè su una cattedra oraria esterna, bisogna indicare la scuola o le scuole di completamento in questi altri campi. Il primo è relativo al codice meccanografico, il secondo all'esatta denominazione della scuola. Nei campi successivi bisogna indicare gli eventuali istituti in cui è stato prestato servizio nei due anni precedenti. Questa richiesta è dovuta al fatto che non è possibile essere nominati come commissari esterni in istituti in cui è stato prestato servizio negli ultimi due anni. Se ciò non è accaduto, invece, si spunta questa voce e si clicca su avanti. Infine, in quest'ultima sezione, dobbiamo indicare le nostre preferenze, cioè le scuole in cui vorremmo essere nominati come commissari. Chiaramente possiamo sceglierle solamente all'interno della provincia di servizio o di residenza che è stata precedentemente selezionata. Per farlo, clicchiamo su aggiungi sedi, selezioniamo i comuni che ci interessano, eventualmente anche i distretti. Si può anche selezionare l'intera provincia. Ricordo che è possibile essere nominati come commissari esterni esclusivamente in scuole appartenenti a distretti diversi da quello in cui si è in servizio. Per sapere quali sono tutti i distretti della propria provincia e le relative scuole basta andare sul sito del proprio ufficio scolastico provinciale. Una volta concluse l'inserimento delle preferenze, clicchiamo su salva. Come possiamo vedere, è possibile modificare l'ordine delle preferenze oppure anche svuotare tutta la lista. Se non fossimo soddisfatti sulle nostre preferenze, verremo trattati d'ufficio e abbiamo la possibilità di indicare il comune da cui partire, può essere quello di servizio oppure quello di residenza. Nel caso in cui non si potesse essere soddisfatti sulla propria provincia, si verrebbe nominati su una provincia limitrofa e abbiamo la possibilità di selezionarne una all'interno della nostra regione. Una volta concluso, clicchiamo su avanti. Se non si vogliono effettuare modifiche, allora si può inoltrare la domanda cliccando su sì. Per ulteriori informazioni vi rimando al sito www.orizzontescuola.it